Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo quello che Gesù amava e disse loro hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò vide i teli posati là ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti.